Una bambina che cresce con l'idea che la normalità sia affascinante, una storia nella quale le donne ne escono meglio degli uomini, più forti e battagliere di personaggi che si danno il cambio al loro fianco. Sono questi gli elementi intorno ai quali ruota Matilde e i suoi tre padri, il nuovo libro di Emilio Clementi presentato questo pomeriggio all'auditorium di San Benedetto. Introdotto dalla sorella Alessandra, Clementi, nato proprio a San Benedetto, ha raccontato la gestazione del suo libro, durata tre anni. Non si può vivere solamente di scrittura, quindi bisogna mettere sempre insieme diverse cose per arrivare alla fine del mese, però sono stati tre anni piuttosto intensi che ho dedicato alla scrittura e sicuramente sono stati troppi, in futuro vorrei diventare un po' più snello e veloce. Edito da Rizzoli, Matilde e i suoi tre padri è ambientato a Bologna negli anni 70, sono i giorni del movimento, della festa del Renudo e di lotta continua, giorni in cui viene concepita Matilde, costretta a vivere e a crescere in un mondo di regole infrante e neofamiglie allargate. Chiediamo a Clementi, già leader dei Massimo Volume, quale potrebbe essere la colonna sonora ideale per questa storia. Sicuramente Neil Young, Nick Drake che viene anche citato un po' più specificamente e poi quando si va negli anni 80, la musica che andava molto allora anche nelle discoteche rock, quindi Joy Division, i Depeche Mode. Infine una considerazione, nell'ambiente letterario italiano c'è sempre una sorta di diffidenza nei confronti di chi passa dalla musica alla letteratura. Pregiudizi spesso infondati, considerando che quando si compongono grandi canzoni con testi intensi, il passaggio alla scrittura di un libro è davvero breve. Secondo me però è anche perché poi a un certo punto le grandi case editrici hanno anche tentato questa carta di pubblicare molti testi, molti racconti scritti da musicisti, forse non tutto era di qualità in qualche maniera, forse da lì comincia un po' la diffidenza nei confronti del musicista scrittore. Però è anche vero che poi bisognerebbe analizzare musicista per musicista poi qual è il lavoro specifico.